ciao a tutti ragazze e ragazze sono daniela e sono una creativa questo è un video di presentazione perché mi sono decisa di iscrivermi anch'io a youtube ecco vi faccio vedere il mio angolo creativo ecco come potete vedere è un angolino della mia cucina non è una stanza per me e ho varie cosine che io adopero per i miei lavori faccio lavori con l'uncinetto e col chiacchierino il ricamo e qui ho tutte le mie cosine ecco come potete vedere ho un puntaspilli punta aghi un piccolo contenitore fatto da me con vari accessori con uncinetti penne pizze da bigiotteria ecco questa è una lampada che uso per la sera quando vedo poco e questo è un piedistallo che appena ho comprato per poter fare le riprese sulla mia destra c'è la mia finestra ecco dove c'è un piccolo ferretto da stiro un tricottino il telaietto e un portalavoro che ho fatto tempo fa a decoupage ecco questo è tutto ciò che ho qui alla mia sinistra vi faccio vedere un nuovo acquisto che è un carrello preso dall'ikea nuovo regalo dove ho la mia macchina da cucire e nei ripiani sotto ci sono c'è tutto l'occorrente per lavorare per cucire per ricamare per fare l'uncinetto ecco è tutto qui quello che ho non ho una stanza apposta per me per i miei lavori ecco io voglio salutarvi spero di fare presto un video per fare qualche lavoro fatto insieme il titolo che voglio dare al mio canale è una favola di figli ciao ciao a presto